Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video Allora ragazzi, sto facendo questo video perché? 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 Perché non tengo un pazzo a fare A parte Praticamente, come già sapete, come già vi ho detto nell'altro video Nel video 10 cose che non sai di me So fare ritratti a matita O almeno sapevo, ma non lo so perché non disegno da molto tempo Niente ragazzi, mi è venuto in mente Che io avevo un video in cui disegnavo Frank Matano E infatti sono andato a cercare su YouTube nei miei canali vecchi E l'ho trovato È un video in cui disegno a matita Frank Matano In cui Frank mi fece anche i complimenti sotto a video Proprio una cosa esagerata E niente ragazzi, quindi sto facendo questo video perché voglio mostrarvi un altro lato di me Oltre alle scemarie che faccio su Facebook e YouTube So fare anche qualcosa di più serio Spero vi piaccia e buona visione 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.